Centinaia di persone sono ancora dispersi a Cipro, 50 anni dopo l'invasione turca del 1974. Il comitato bicomunale per le persone scomparse dell'isola, composto da ciprioti greci e turchi, continua a cercare queste persone. Delle 2002 persone scomparse, quasi la metà è stata localizzata, ma gli archeologi sono ancora alla ricerca di 955 corpi e gli scienziati faticano a identificare le ossa scoperte. I parenti delle persone scomparse finalmente ritrovate si sentono gratificati e sollevati. Per loro si è finalmente chiusa una profonda ferita. Grazie a tutti.